buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 9 gennaio 2024 siamo pronti per dare un'occhiata ai giornali e passiamo come sempre prima attraverso l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi la festa di san marcellino di ancona visse nel sesto secolo sesto vescovo della città dorica però di lui non è che si sanno molte notizie si dice che fu un uomo santo e pieno di zelo si dice che salvò la città da un incendio arrestando le fiamme parandosi dinanzi con il vangelo era uno dei miracoli a cui che si attribuiscono a questo santo che è vicino a noi un santo marchigiano che appunto resse la città di ancona nel sesto secolo siamo ancora nei primordi della diffusione della cristianità nel mondo le previsioni del tempo il cielo oggi si è rischiarato però insomma rimangono le nuvole rimangono le nuvole soprattutto al mattino con deboli piogge in assorbimento nel corso della giornata questo vuol dire che il tempo migliore un pochino rispetto all'ultimo weekend e all'inizio di questa settimana i venti saranno tesi da nord nord ovest il mare è molto mosso le temperature si sono abbassate 5 la minima 7 la massima era 14 vi ricordate non molto tempo fa e il sole sorge alle 7 e 41 e tramonterà alle 16 e 45 ebbene date queste notizie iniziali passiamo alla lettura dei quotidiani e vediamo subito il corriere adriatico anzi no guardiamo il resto del carlino questa mattina il resto del carlino vediamo una notizia che riguarda un po tra lo sport e la cronaca perché è successo veramente un fatto inqualificabile in un campo sportivo ecco il titolo pugni in campo all'avversario del figlio sono uscito di testa chiedo scusa a tutti ha detto il fanese alex spendi papà di christian un giocatore che gioca nel cesena e aveva avuto uno scontro in campo con il portiere dell'olbia questo scontro aveva provocato una ferita al capo a questo giocatore il padre che era presente alla partita è sceso in campo e ha malmenato l'avversario del figlio e fanese d'adozione dunque alex spendi l'uomo finito nella bufera per aver colpito con un pugno il portiere della squadra ospite al termine della partita di calcio cesena olbia del campionato di serie c i motivi del gesto li abbiamo detti l'infortunio provocato al figlio christian durante la partita che l'ha visto uscire sanguinante dal campo per una ferita all'arcata sopraccigliare il padre non ci ha più visto è entrato in campo e ha colpito il portiere dell'olbia filippo rinaldi e tutto quanto è stato poi trasmesso sui social ma anche ha aperto c'era il filmato e quindi ha aperto anche i telegiornali che si occupano di notizie sportive è diventato un po come un filmato virale che insomma è dilagato un po su tutta la nazione questo ha creato diverse discussioni e diverse prese di posizione vediamo le altre notizie domani a roma si svelano tutti i segreti della prossima edizione del carnevale di fano una conferenza stampa che viene sintetizzata in una notizia a margine del titolo che apre il resto del carlino domani a roma nella sede dell'ennit che l'ente nazionale per il turismo si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del carnevale 2024 di fano carnevale che lo ripetiamo si svolgerà il 28 gennaio il 4 e l'11 febbraio sono queste le tre date dei corsi mascherati ma tra l'una e l'altra poi ci sono tante altre iniziative di animazione che saranno così daranno la possibilità sia ai grandi che ai piccini di divertirsi in questo periodo di così insomma di tranquillità speriamo che sia veramente così e qui abbiamo invece a fondo pagina una presa di posizione di federico sorcinelli di fratelli d'italia federico sorcinelli abita nel quartiere di sant'orso e non ha mai digerito come alcuni abitanti del quartiere e i provvedimenti i presi dall'amministrazione comunale per tutelare la sicurezza dei residenti in modo particolare dei bambini degli studenti che si recolano la scuola in questi ultimi tempi il quartiere è stato oggetto di interventi come dissuasori come strettoie per la via che hanno destato diverse prese di posizione contrarie riassunte appunto in questo articolo secondo le prese di posizione di federico sorcinelli vediamo ancora le altre notizie una discarica a due passi dalla sede dell'ASET è stata scoperta all'aeroporto di Fano Sacchettopoli così viene definita in zona aeroporto immondizia e ratti proliferano ovviamente dove c'è l'immondizia non mancano neanche i topi l'assessore anzi no l'assessore il presidente il presidente dell'ASET Reginelli dice oggi puliamo ma contro l'inciviltà possiamo ben poco si pulisce ma dopo un po' insomma questi sconsiderati questi così queste persone che non hanno un senso civico non continuano poi a sporcare e continuano ad alimentare i cumuli di immondizia per quanto riguarda le discariche abusive sono resti di cibo cartone un pasto acquistato dai resti del pasto acquistato da mcdonald e poi ancora alcuni pensili di cucina una distesa di sacchetti di plastica tutti colorati strabordanti di rifiuti indifferenziati e quanto è stato rilevato nella zona dell'aeroporto una zona che è abbastanza isolata lì c'è ancora si lavora per realizzare questo benedetto parco che sembra non venire mai la luce per dei problemi sorti con la ditta e la gente insomma rimane disgustata per questo comportamento che non penalizza l'amministrazione comunale perché l'amministrazione comunale fa quello che può così come l'aset ma penalizza la stessa città per colpa di alcuni sconsiderati ed ora parliamo c'è una bella foto qui pubblicata dal resto del calino una gigantografia che pare come una consacrazione ebbene Ser Filippi ora attende l'investitura a candidato sindaco del centrodestra per le prossime elezioni amministrative ma ci sono dei problemi anche nel centrodestra mentre il centrosinistra ancora discute, disquisisce se fare le primarie o meno ebbene nel centrodestra questa uscita della Lega per la candidatura di Ser Filippi che fino a quel momento fino a pochi giorni fa diceva no non mi voglio candidare insomma aveva anche rinunciato di fronte alle offerte che aveva fatto Salvini ebbene questa volta si è lasciato convincere dal presidente della regione Marche Francesco Acquaroli Ser Filippi ora attende l'investitura però dicevo perplessità vengono evidenziate da Forza Italia dall'Udc e anche ovviamente da un suo avversario politico che opera sempre nella sfera del centrodestra Giuseppe De Leo ora che Luca Ser Filippi della Lega ha dato la sua disponibilità al governatore Francesco Acquaroli e qualcun altro nel centrodestra comincia a dare segnali di insofferenza a proposito della sua candidatura a sindaco ebbene è interessante leggere questo articolo per capire quali sono le dinamiche che in questo momento si svolgono all'interno del centrodestra e poi vedremo anche che cosa farà nel centrosinistra in un altro articolo pubblicato dal Corriere Adriatico e intanto a marzo aprirà l'acquario scientifico Alfano Marine Center lo ha pronostricato l'assessora all'ambiente Cora Fattori che ieri ha presentato le iniziative dell'Università del Mare a Mondavio, ma io oserei dire a Pesaro, lui è di Mondavio, si dà l'addio al dottore Girolamo Martino morto a 62 anni il funerale del medico è previsto alle 11.45 questa mattina nel Duomo di Pesaro e il resto del Calino pubblica un ricordo del sindaco Zenobi, sindaco di Mondavio sempre attento e propositivo, sono due qualifiche che hanno caratterizzato la personalità di questo medico fino all'ultimo ha partecipato ai consigli comunali collegandosi da casa Sanità, smettiamo di pagare i gettonisti, assumiamo di più c'è stato un incontro pubblico giovedì con Vania Sciumbata, sindacalista della CGL sul superamento dei tetti di spesa a Mondavio e sarà proprio Vana Sciumbata, segretaria confederale della CGL provinciale di Pesaro Urbino la relatrice dell'iniziativa pubblica dal titolo Lo Stato di Salute della Sanità in programma per giovedì sera alle ore 21 nella biblioteca comunale di Mondavio terre roveresche, tasse comunali super scontate a chi lavora per la comunità questa è una bella iniziativa che il sindaco Antonio Sebastianelli di terre roveresche ha assunto perché premia coloro che lavorano per la comunità, coloro che fanno dei piccoli servizi di carattere sociale ma anche di carattere attivo torna infatti l'iniziativa cittadinanza attiva che taglia la tarip a chi si rimbocca le maniche quindi un piccolo premio a chi opera nell'interesse della cittadinanza a Urbino c'è un'iniziativa per la lotta al femminicidio i giovani ci ascoltano Anna Rita Calavalle diventa una figura chiave della commissione bicamerale contro la violenza ecco i suoi progetti Anna Rita Calavalle è stata nominata fino a ottobre come componente della commissione bicamerale contro la violenza di genere e il femminicidio un gruppo di lavoro all'interno del governo che vede la presenza di laici e politici proprio per trovare strumenti e soluzioni contro questo fenomeno che purtroppo sembra non cessare mai in via dei veterani a Urbino cadono pezzi di cornicione sono documentati questi episodi dalle fotografie pubblicate dal resto del Carlino il maltempo deve aver interferito con la stabilità di elementi pericolanti delle grondaie e dei tetti creato un percorso alternativo per andare al nuova luce, per andare al cinema l'automazione industriale è una forza del nostro entroterra lo dice l'imprenditore Valerio Fioreani, 38 anni che parla della tradizione della meccanica e guarda avanti e si sviluppa a livello internazionale grazie all'elettronica quindi anche il nostro sistema produttivo non rimane indietro rispetto all'evoluzione del progresso e alla meccanizzazione, all'automazione, all'efficienza energetica all'interno delle fabbriche giriamo ancora la pagina ora si migliori la Gubbio Fano May dell'Udc rilancia la sua visione nell'entroterra in modo particolare a Cagli dopo la riapertura della Contessa e dopo la ripercorribilità di questa arteria che è rimasta chiusa per tanto tempo il presidente provinciale dell'Udc May si è attivato con nuove iniziative per migliorare la viabilità ed è importante questa iniziativa perché poi è l'unica arteria che ci collega quella meglio transitabile che collega la nostra provincia con la provincia di Perugia e quindi con la parte dell'entroterra del centro Italia insomma, dell'entroterra e del centro Italia e quindi anche il collegamento verso Roma e quindi è importante sperando che il problema della guinza si risolva al più presto il medico del 118 a Fossombrone non è mai mancato Berloni e Chiarabilli rispondono al cittadino che non aveva trovato soccorso in ospedale di comunità e con questa notizia passiamo ora alle pagine pesaresi dove l'apertura dedicata dal resto del carlino si riferisce al mercato delle erbe che è a retrostante piazza del popolo il trasloco, l'abbiamo visto ieri sui giornali avverrà venerdì in via Gavardini il rischio è ricominciare da zero per tutti coloro che devono poi riproporre il dialogo con i loro clienti una nuova postazione scombussola un po' le carte e quindi bisogna ricominciare da zero bancarelle cosa accadrà nel 2026 aumenteremo le attività vogliamo farne tornare tante parla l'assessore Frenquellucci in questo caso la vocazione resterà pensiamo a nuove rivendite ed esempio per il pesce vero che la nuova area è più piccola ma l'importante era dare continuità a tutto il commercio e insomma si parla ancora del trasferimento del mercato della piazzetta del Chiostro delle Erbe in via Gavardini Benelli è stato un blocco elettrico non è vero che l'impianto che è stato realizzato per evitare gli allagamenti dello stadio di Pesaro non funziona in questo caso c'è stato un incidente le pompe hanno detto ha detto anzi l'assessore Pozzi non sono entrate in funzione e quindi bisogna invece attivare queste ultime per evitare i problemi che ci sono verificati veniamo alla cronaca palpeggia due ragazze alla stazione la polizia arresta un nigeriano di 30 anni un doppio episodio ha interessato due giovani le quali danno l'allarme e gli agenti rintracciano appunto l'aggressore poco lontano e lo accusano di violenza sessuale questo per quanto riguarda la cronaca ora apriamo il corriere adriatico e vediamo una azione della polizia che è stata rievocata in tribunale bloccato in auto con un carico di droga un ingente carico di droga un ingente carico di droga che è stato scoperto grazie al fiuto di Alex un magnifico pastore tedesco che ha così scoperto questo carico di droga ingente 20 kg di marijuana e ashes nascosti in una auto si tratta di una operazione condotta dalle fiamme gialle che hanno effettuato un normale controllo nella zona industriale di Bellocchi all'uscita dell'autostrada qui hanno intercettato e fermato l'auto di un 41enne risultato poi di nazionalità albanese regolare sul territorio italiano incensurato di mestiere piccolo imprenditore ebbene quando l'hanno fermato il cane ha cominciato subito ad agitarsi e poi si è rivolto insistentemente verso il portabagagli dove è venuta fuori la droga ebbene tutto questo è stato rievocato ieri mattina di fronte al tribunale di Pesaro lui l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere e il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto la misura a cautelare in carcere intanto le indagini proseguono a Sant'Orso residenti ostaggio della viabilità è l'articolo che riguarda le proteste che emergono da Sant'Orso emergono da un rappresentante di Fratelli d'Italia Federico Solcinelli e poi anche un articolo di Spalla il carnevale più antico si presenta domani a Roma getto di 200 quintali confermati anche quest'anno saranno tre sfinate di carri veramente molto nutriti molto vivaci molto belle per quanto si sta lavorando pur con difficoltà all'interno dei capannoni della carnevalesca per predisporre i carri che sfileranno inaugurazioni come spot elettorali è quanto evidenzia l'opposizione nei confronti dell'amministrazione comunale ed è l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori che risponde con tutti i cantieri che sono stati attivati vengono attivati saranno attivati nel corso di questa tornata amministrativa sono oltre 100 ha detto ebbene sì ora vengono la luce tutti insieme ma sono frutti di una progettazione di una ideazione di una cura progettuale che si è dilungata nel tempo ed è iniziata anche alcuni anni fa poi sono intervenute non poche difficoltà il covid l'aumento delle materie prime ci sono state alcune ditte che hanno fatto i capricci insomma ci sono state diverse cose che hanno rallentato l'arrivo alla fase esecutiva che ora finalmente è arrivata e si stanno portando a casa i frutti di quanto è stato seminato il centro-sinistra allargato ridda di riunioni e incontri a fondo pagina nelle Corriere Adriatico abbiamo due articoli uno che riguarda lo stop a Ser Filippi dato dalla civica di De Leo o anche qualche rimostranza dall'Udc e da Forza Italia e dall'altra abbiamo invece tutto quello che si anima all'interno del centro-sinistra e sono giornate decisive queste perché ormai bisogna sciogliere ogni dubbio ogni incertezza bisogna trovare un accordo bisogna capire se il centro-sinistra andrà alle elezioni da solo si alleerà con i progressisti bisogna capire se si faranno le primarie oppure si andrà con un candidato deciso appunto tra i partiti e tutto questo ormai non può più aspettare e anche insomma da una parte e dall'altra ci sono ancora decisioni da prendere e sono decisioni importanti i volontari del CB Club Mattei sono veramente una grande risorsa per tutta la città di Fano oserei dire per il Comune e anche per l'entroterra perché sono pronti ad intervenire con grande spirito di abnegazione e anche grande efficienza in occasione di tutte le situazioni di emergenza terremoto alluvioni nevicate insomma se ne sono viste un po' di tutti i colori in questo ultimo periodo vi ricordate anche il Covid vi ricordate la bomba questa bomba a tempo inesplosa che è stata trovata a pochi metri dalla riva e che ha comportato l'esito di 10.000 persone per una notte intera ebbene grazie alla protezione civile pronta a intervenire anche in occasione dei temporali quando il vento sconquassa gli alberi fa cadere rami e tronchi sulle strade oppure guarda il livello dell'arzilla del fiume Metauro per evitare esondazioni insomma sono persone che operano per il bene della comunità e quotidianamente le vediamo sempre presenti agli incroci per aiutare gli studenti e anche le persone fragili ad attraversare la strada e curano anche il trasporto di chi veramente non è norma dotato e quindi è un servizio sociale di grande di grande importanza ebbene nei giorni scorsi c'è stata un'iniziativa conviviale il presidente Saverio Livi ha tratto un consuntivo dell'attività un'attività sul campo ma anche una costante attività di formazione per essere sempre pronti all'altezza della situazione ristorante e lingerie aprono due nuove attività a Fossombrone inaugurata ieri la pizzeria gourmet il gatto e la volpe già al lavoro l'altro negozio è stato inaugurato dal sindaco dal sindaco Verloni ed ora passiamo a San Costanzo a San Costanzo si parla ancora di bilancio più servizi investimenti e niente aumenti di tasse l'assessore Ciani che è l'assessore al bilancio tratteggia il previsionale 2024 approvato dal Consiglio Comunale ci sono diverse iniziative di carattere sociale 380 mila euro per il centro sociale di Solfanuccio 50 mila euro per l'efficientamento energetico dell'illuminazione degli impianti sportivi 15 mila euro per la manutenzione straordinaria dei parchi 20 mila euro per le strade e sono solo dei piccoli esempi per quanto riguarda gli investimenti che il Comune intende attuare nel corso del 2024 vediamo anche la pagina di Senigallia Ponte Angeli al sindaco non piace così ho chiesto ha detto il primo cittadino Olivetti se si può farne uno nuovo vedete qui il Ponte Angeli che è così basso come non ha insomma non ha costituito una barriera durante la burrascosa tempesta che ha provocato l'alluvione a Senigallia piuttosto che rimettere a posto il Ponte così come per il sindaco era meglio farne uno nuovo ma ora è inutile un po' recriminare e con questa notizia terminiamo le notizie di cronaca voglio soltanto prima di chiudere segnalarvi alcune notizie di sport per quanto riguarda il fano calcio visse mamona nessun dramma riportiamo il laterale dopo lo sfortunato pareggio con la SPAL mentre per quanto riguarda la serie D Fano e Fossombrone derby in vista inizia la settimana di preparazione alla sfida del Mancini Granata con problemi di organico Metaurensi con il morale alto i Granata sono i fanesi i Metaurensi sono i forsempronesi ma questo è scontato e con questo chiudiamo i giornali vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani alle 7 a risentirci il Grazie a tutti.